In questo tornino il primo turno ha superato Gila Falkner 6-3-4-6-6-2, il secondo Stefania Rubini 3-6-6-3-6-3, ai quarti di finale Cristina Diu 6-4-6-6-2, in semifinale Camiller Zatello 6-4-6-4. Attualmente è il numero 346 del avvento mondiale con un vestimento nel numero 264. Alla destra dell'arbitro Lea Boscović. E' nata il 30 settembre 2002 a Zagabria, in carriera avendo un titolo ITF imponendosi nella CMG Tennis Camp di Trieste a settembre 2021. La settimana scorsa è stata sconfitta in finale all'ITF di 25.000 dollari in semifinale. In questo torneo per arrivare all'alto finale il primo turno ha superato Diretta Cherubini 7-5-6-1, al secondo Federica Arcilia con la 6-3-6-3, al quarto di finale Arianna Zubini 6-1-6-0, e in semifinale Dalila Iacupović 7-5-6-3. Attualmente è il numero 313 da BTI. Alla sinistra dell'arbitro Tara Virgir. Giudice di sedia è il signor Stefano Sacchi di Modena, il supervisor internazionale è il signor Giulio Pezzella di Sassar. Alla sinistra dell'arbitro Tara Virgir. Alla sinistra dell'arbitro Tara Virgir. Grazie. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti